Le primarie del Partito Democratico, un enigma, ancora tutto da sciogliere. I fatti emiliani potrebbero infatti avere ripercussioni pesanti anche alla punta dello stivale, ma in Calabria c'è chi è già in campagna elettorale. Si tratta di Gianluca Callipo, Gianni Speranza e Mario Oliverio. Quest'ultimo, nell'ultima tappa sulla costa degli dèi nel Vibonese al cospetto di militanti e simpatizzanti, ha messo un ulteriore punto fermo sulla data di svolgimento della competizione dal basso. Si svolgeranno il 21 di settembre, domenica 21, è una data questa decisa dall'Assemblea regionale del PD ed è una data per la quale si sta lavorando per mettere a punto la macchina organizzativa, perché le primarie vanno organizzate e naturalmente c'è già il comitato che sta lavorando in questa direzione. Una candidatura basata anzitutto sull'esperienza acquisita in anni di amministrazione, prima da sindaco poi da presidente della provincia. Lavorare per rimettere in piedi questa regione, farlo, sulla base di un'esperienza di buon governo che ha caratterizzato questi dieci anni della più grande provincia della Calabria che è la provincia che io ho diretto con risultati importanti, con un bilancio che è un bilancio sano, che non lascia buchi. Non mancano reciproche frecciate tra Callipo e Oliverio a chi rimprovera alla presidente della provincia di Cosenza di non essersi mai sottoposto al giudizio degli elettori. Mario Oliverio replica così. Io mi sono sempre sottoposto al giudizio degli elettori, io mi sono sottoposto al giudizio degli elettori da sindaco, ho fatto un anno il sindaco della mia città, mi sono sottoposto al giudizio degli elettori da parlamentare, io sono stato sempre eletto, mai nominato, mi sono stato eletto per la prima volta con la preferenza unica, con un risultato di essere il primo degli eletti e con i collegi uninominali, con percentuali sempre crescenti, oltre il 60%. Vorrei dire a Callipo che credo prima di scrivere Bagianate farebbe bene ad informarsi.